La squadra mobile ha impiegato un figurante di colore per chiarire se la sagoma nel video possa corrispondere a quella di Lewis. Gli ascensori sono stati bloccati per evitare rumori di sottofondo e si sta considerando anche una possibile via di fuga alternativa. Già accaduto nel dicembre 2023 e successivamente lo scorso agosto, il commissario capo Marco Masia e la sua squadra sono tornati l'altra sera, intorno alle 22, in via del Ciclamino, teatro del delitto di Pierina Paganelli. Lì hanno eseguito alcune simulazioni per cristallizzare quella che gli inquirenti considerano la prova regina contro l'unico indagato, il 32enne senegalese Luis da Silva. Si tratta del video della CAM3 della farmacia San Martino, che mostra una figura incamminarsi verso il palazzo al civico 31 alle 22 e 17 della sera del delitto, avvenuto il 3 ottobre 2023. Secondo gli investigatori, la sagoma del video corrisponde, per altezza, colore della pelle, andatura e torsione della spalla, a quella di da Silva. In quel momento, secondo la tesi degli inquirenti, l'uomo avrebbe fatto rientro nel condominio subito dopo aver assassinato Pierina. Tuttavia, per il team difensivo, composto dagli avvocati Riario Fabri e Andrea Guidi e dalla criminologa Roberta Bruzzone, l'individuo nel video sarebbe in realtà un altro condomino, totalmente estraneo al delitto. Un vicino, in un'intervista televisiva, ha addirittura insinuato che quella sagoma potesse essere la sua, dato che quella sera tornava a casa dal bar. Per chiarire i dubbi, il GIP Vinicio Cantarini ha invitato procura e difesa a richiedere un incidente probatorio sul video. Si tratta di un esame tecnico approfondito per stabilire definitivamente se quella figura possa essere sovrapposta ad a Silva. Rimane da chiarire anche il nodo sulla pigmentazione dell'indagato. L'individuo immortalato nel video è bianco o di colore? Anche per questo motivo, l'altra sera gli agenti della squadra mobile hanno deciso di effettuare nuovi test, simulando il passaggio di una persona di pelle scura nella strada che fiancheggia il condominio, nell'interrato dove si trovano i box auto e lungo le scale interne che conducono ai pianerottoli del piano terra e del terzo piano. Non è tutto però. La polizia ha anche bloccato tutti gli ascensori degli otto condomini che si affacciano su via del ciclamino, i quali sono collegati tra loro dai corridoi interrati dei garage. In sostanza, da una parte, gli investigatori stanno verificando la solidità della prova principale contro Luida Silva. Dall'altra, però, vogliono probabilmente accertare l'esistenza di un'altra strada percorsa dall'omicida dopo il delitto, una via di fuga alternativa rispetto a quella inizialmente delineata. Gli ascensori sono stati probabilmente bloccati per evitare suoni di sottofondo, poiché l'assenza di rumori esterni è fondamentale. Infatti, nella disponibilità della scientifica della questura, c'è un audio di una telecamera installata da un condomino sul suo box auto, che la sera dell'omicidio ha registrato le urla della vittima mentre veniva accoltellata. Non solo urla, ma anche suoni di sottofondo che potrebbero aver portato a ipotizzare nuovi movimenti dell'assassino.